Sopracciglia definite e scolpite. Utilizzo lo spazzolino della matita automatica per fettinare perfettamente. Delinio poi il contorno dell'arcata sopraccigliare inferiore partendo da vicino al naso andando verso le sopracciglia. Settino poi i peli dall'alto verso il basso e l'arcata superiore partendo più dal centro delle sopracciglia per avere un effetto più naturale. Di seguito definisco e allungo la coda delle sopracciglia. Infine riempio fra le due linee creando dei piccoli fratti per un effetto pelo. L'idefinition eyebrow pencil è perfetta per chi vuole sopracciglia. Utilizzo la parte matte del Duo Pencil Matte & Shine che è ideale per ridisegnare perfettamente l'arcata sopraccigliare. Punti luce sotto l'angolo dell'arcata sopraccigliare utilizzando la parte shine. È perfetta anche sul dorso del naso e sull'arco di cupido. Punti Grazie a tutti.